Musica Giulio Alberto Picchione e Lorenzo Paroni sono i due finanzieri morti stanotte durante un addestramento sul monte Mangart, il cordoglio delle istituzioni. Furto con scasso nei chiostri del lungomare Aquario Amuggia, i ladri hanno forzato le strutture portando via quasi 2.000 euro e rubando alcolici senza contare anche i danni ai chioschi stessi. Il restyling della fiera comprenderà anche una riqualificazione di piazzale De Gasperi, lo riferisce l'assessore Babuder, prevista anche un'area verde via Sette Fontane. Fine settimana di passione per chi sarà in viaggio lungo la rete autostradale regionale, previsto traffico da Bollino Rosso per venerdì e domenica, Bollino Nero sabato. Crodi Aviano sempre più all'avanguardia, grazie al trattamento in tomoterapia, un giovane paziente oncologico è guarito da un tumore cardiaco. L'unione di Tesser contro il Sistiana di Godeas, i Rosso Labardati hanno vinto 6-0 l'amichevole di ieri, fornendo buone indicazioni al mister. Sabato il Brescia a porte chiuse. La palla nuoto Trieste avvia il raduno dell'ormai consueta cornice della Usonia. Fra nuovi arrivi e veterani, Coach Bettini annuncia voglio che questa sia una stagione indimenticabile. Buonasera, ben trovati all'edizione serale telegiornale di Telequattro, tragedia sulle Alpi Giulie, al confine tra Italia e Slovenia. Due giovani soccorritori della Guardia di Finanza sono precipitati dall'accordata durante un addestramento, erano in servizio a Tarviso. Sentiamo il nostro servizio di apertura che è stato realizzato dalla redazione di TV12. I loro corpi sono stati ritrovati nella notte, poco dopo le 2, alla base della parete del piccolo Mangart di Coritenza, a 4.600 metri, tra le Alpi Giulie. Giulio Alberto Pacchione, nato a Reggio Emilia, era originario della provincia di Teramo, di Silvimarina. Lorenzo Paroni, di 20 anni, era nato a Pordenone, ma originario di Montereale e Valcellina. Entrambi erano finanzieri in forza alla caserma della Guardia di Finanza, Tarvisiana. I due stavano risalendo la via Piusi, una via di sesto grado che percorre la verticale nord del monte. I due giovani erano in attività ufficiale di addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma nella serata di ieri. Si tratta dunque di un incidente in servizio, in quanto tale è al vaglio della procura di Udine che ha aperto un'inchiesta. Proprio per la difficoltà della via e per il fatto che le capacità dei due erano ben note, l'allarme sul mancato rientro dei due alpinisti è scattato solo in tarda a serata. Entrambi facevano parte anche della stazione di cave del Predi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Lorenzo era a tutti gli effetti già un tecnico del CNSAS, mentre Giulio era un aspirante soccorritore e avrebbe dovuto a breve sostenere l'esame d'ingresso nel corpo. La dinamica dell'incidente al vaglio degli inquirenti, ma una prima valutazione porta a pensare si sia trattato di una tragica fatalità scatenata da cause oggettive e ambientali con un probabile crollo o distacco dall'alto che ha trascinato entrambi gli alpinisti. Impossibile al momento valutare l'ora dell'incidente e a che punto della parete sia avvenuto. I due giovani finanziari non risultavano raggiungibili né tramite dispositivi telefonici né attraverso i dispositivi radio che avevano al seguito. I colleghi in caserma hanno iniziato a preoccuparsi, attorno alla mezzanotte si sono portati ai laghi di Fusine e poi nei pressi del rifugio Zacchi, dove era stato parcheggiato il loro mezzo. Una volta raggiunti a piedi alla base della parete c'è stata la triste scoperta che lascia presupporre ad una caduta di diverse decine di metri. Il recupero dei corpi, ancora legati in cordata, è avvenuto nella mattinata di oggi. La preparazione di entrambi era di altissimo livello, raccontano dal soccorso alpino. Entrambi conoscevano le pareti rocciose del Mangart, dove avevano tra l'altro già salito il temibile e famoso Diedro Cozzolino, una delle vie più difficili delle Alpi. Giulio era anche maestro di scia a Tarvisio. A Lorenzo mancava solamente un esame per diventare guida alpina. Ed è stato unanime il coro di cordoglio da parte del mondo istituzionale e politico da tutte le frange del Parlamento. La tragica scomparsa dei finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Picchione sul monte Mangart lascia sgomente all'intera comunità della nostra regione. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e a tutto il comando generale della Guardia di Finanza di Tarvisio. in queste ore di profondo dolore. Il cordoglio espresso dal governatore del Friuli, Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dall'assessore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi per la morte dei finanzieri soccorritori in servizio a Tarvisio è venuta ieri a seguito di una caduta in parete sul monte Mangart mentre erano impegnati in un'attività addestrativa. Due professionisti esemplari che svolgevano il loro prezioso servizio e poi la collettività con impegno e incommiabile hanno aggiunto sia Fedriga che Riccardi. Cambiamo argomento, siamo però sempre alla cronaca. Furto con scasso nei tre chioschi del lungomare acquario di Muggia nello stabilimento balneare Boabici. I ladri, nottetempo, hanno rubato il denaro delle casse, bottiglie e snack ingenti danni alle strutture. Sentiamo di più dal servizio di Laura Buccarella. Oltre 1.500 euro portati via dalle casse e danni ingenti ai tre chioschi sul lungomare acquario di Muggia sono i risultati del ride notturno al nuovo stabilimento balneare Boabici. I ladri, nottetempo, hanno rubato il fondo cassa di tutti e tre i bar forzando le serrature e spaccando le vetrate. Il danno maggiore è nel gazebo centrale dove i ladri sono entrati dalla finestrella del bagno rubando le sommi più ingenti. A scoprire il furto che ha riguardato anche snack e bottiglie di alcolici sono state le bariste al mattino all'apertura dei locali. Questa mattina sono arrivata in apertura, torno alle otto e mezza e ho trovato tutti i cassetti aperti e la cassa chiusa con il portamonete per terra vuoto. Poi ho fatto un giro generale, sono mancati un po' di pacchi di patatine e alcuni gelati e abbiamo aspettato che arrivasse il responsabile che ci ha riportato il fondo cassa e abbiamo ricominciato a lavorare. Il fondo cassa non erano tanti soldi, abbiamo avuto la fortuna di aver messo l'incasso di ieri in cassaforte che non è stata aperta. Non sono entrati in magazzino, sono entrati solamente qui tramite la porta e invece nel chiosco centrale hanno fatto più danno perché non riuscivano a scassinare la porta e quindi sono entrati dalla finestra del bagno rompendola completamente. Sul posto i carabinieri insieme alla polizia locale di Muggia per le indagini sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona. E' un altro furto ma in questo caso a Trieste nella zona del Silos un uomo ha rubato un geolocalizzatore all'interno di un pullman che era posseggiato proprio al Silos di Trieste. E' stato identificato e denunciato dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste il presunto responsabile del furto di un geolocalizzatore satellitare del valore di circa 3.000 euro sottratto qualche settimana fa dalla cabina di guida di un autobus di linea parcheggiato nel garage del Silos. Fondamentali le immagini di videosorveglianza che hanno inchiodato il responsabile identificato in particolare per alcuni accessori indossati. Le indagini sono partite subito dopo la denuncia del responsabile legale della società di trasporto pubblico. Gli gnoti si erano introdotti nell'autobus e avevano rubato il geolocalizzatore installato sul cruscotto. Le tracce video delle telecamere di sicurezza interne al Silos hanno permesso di fissare alcuni particolari del presunto responsabile nonostante il cappuccio, indirizzando le indagini tra i frequentatori di piazza della Libertà ed intorni. Sono stati però, come detto, alcuni accessori dell'uomo, ben visibili nelle immagini, a rivelarsi decisivi per la sua identificazione. A distanza di alcuni giorni, infatti, gli agenti hanno agito in Borghese, in zona stazione. L'uomo è stato notato dal personale del nucleo, che proprio durante l'attività di identificazione ha riconosciuto quegli stessi accessori. Con in mano sufficienti elementi a disposizione, il 45enne cittadino bulgaro, con innumerevoli precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato. Gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi a suo carico sul furto di un altro geolocalizzatore, sempre all'interno del silos, avvenuto qualche giorno prima. Borgo San Sergio, Piazzale De Gasperi, Viale Ippodromo, Via San Marco e Via Locchi. Sono le tappe del giro che la troupe di Telequattro ha effettuato questa mattina durante Sveglia Trieste per documentare quegli esempi di degrado minimo che però chi abita in quelle zone di fatto subisce quotidianamente. Umberto Bosazzi. Ancora una volta il collegamento esterno durante Sveglia Trieste si conferma uno strumento a disposizione dei cittadini per documentare quelle situazioni di particolare disagio o degrado di cui poco sia il corretto se non si vivono quotidianamente. Prima tappa odierna, l'area giochi immediatamente retrostante, Piazza 25 Aprile a Borgo San Sergio. Il problema qui è rappresentato dal prolungarsi dei lavori per l'installazione dello scivolo. Nelle more poco ci vuole a farsi beffe delle recinzioni ed entrare a volte anche solo per colpire a martellate il manufatto. Vicino esempi di inciviltà. Se come potrebbe darsi ad esserne responsabili fossero gli uccelli sarebbe sufficiente sostituire i cestini con quelli chiusi. Seconda tappa ancora un'area giochi, stavolta in Piazzale De Gasperi, messa non malissimo ma decisamente usurata, anche in questo caso lo scivolo specialmente. Qui però, francamente, il problema è fra quei pochi che le telecamere non possono testimoniare, ovvero un fetore abbastanza intenso sulla cui natura, facilmente intuibile, è forse meglio non indagare. Poco più in basso, in Viale D'Annunzio, qui c'entrano i marciapiedi. Da una parte, in corrispondenza della fermata dell'autobus, di fatto impossibilitati ad accostarsi il più possibile, la presenza di un paio di caditoie rende pericolosa la discesa dai mezzi pubblici. Di fronte, il marciapiede risulta dissestato in presenza delle radici degli alberi. Il Comune, in tal senso, sta concludendo un intervento di messa in sicurezza del marciapiede di Via Locchi, che fra l'altro livella pure la superficie del marciapiede, ed anche questo Sveglia Trieste ha documentato. In Via San Marco, all'incrocio con Via Alberti, si ripropone lo stesso problema, se vogliamo, come nei giorni scorsi aveva segnalato una telespettatrice non vedente, per la quale risulta comprensibilmente difficile percorrere quel tratto di strada. Poco più in basso, in corrispondenza del numero 45, un'isola ecologica con i bottini dell'umido posizionati troppo vicino allo stabile per non dar fastidio a causa degli odori. A poca distanza, fra l'altro, di un'altra e assai più ampia isola ecologica che, va sottolineato, serve un'area piuttosto vasta e che dovrebbe essere ampliata. Ad anno, fanno notare i residenti, della possibilità di parcheggiare. E ancora, lo svuotamento dei cassonetti al mattino presto che disturba parecchio. Ha detto che se l'intervento fosse effettuato in altri orari, che non siano a tarda sera o di notte, esso potrebbe provocare più di un intralcio al traffico. Per finire, lo stato della fermata dell'autobus dell'Ausonia, forse non così devastante come una signora ci aveva segnalato, ma pur sempre poco degno. Sollecitato più o meno direttamente dall'esterna di Sveglia Trieste, l'assessore comunale all'urbanistica Michele Babudra ha anticipato un dato rispetto a Piazzale De Gaspari. I lavori di ristrutturazione della fiera, ha detto, prevedono anche la riqualificazione della zona, rispondendo anche così a quanto avevano sollevato i consiglieri della circoscrizione e della lista russo.franco. La scorsa settimana, proprio con i progettisti della fiera, che avranno l'onere di rifare anche il Piazzale De Gaspari. Dentro quel progetto della fiera, ovviamente, che ha necessitato di una variante urbanistica da parte del Consiglio comunale, è previsto che vi siano circa 8 milioni di opere di urbanizzazione, il che vuol dire che non ci danno soldi oneri, ma che fanno e realizzano opere. Ma fanno o no? Le fanno, allora, le opere sì. Voi sapete che c'è stata una dilazione nel tempo che è nota di circa un anno e mezzo da parte delle persone, da parte della proprietà, la quale però, ad onor del vero, ha avuto la concessione, quindi la variante urbanistica, se non era nel 2020, per cui non stiamo parlando di sei anni di inizio, e li ho rincontrati due settimane fa. All'interno del progetto della fiera, evidentemente, è ricompresa anche tutta la riqualificazione di Piazzale De Gaspari, che io vorrei ritornasse come era un tempo, non più a un piazzale che adesso è un maleodorante o privo di giochi e di verde, ma ritorni un polmone verde per la cittadinanza. All'interno di quelle opere, vi aggiungo, anche nella via Sette Fontane è previsto che venga creata un'altra zona verde. Traffico intenso questo fine settimana per il controesodo estivo lungo gli assi autostradali regionali. Per domani, prevista giornata da bollino rosso, per sabato invece è previsto bollino nero, soprattutto attenzionata la zona del casello dell'Isert. Sentiamo. Il primo vero controesodo della stagione estiva è alle porte. A partire da domani, venerdì 18 agosto, giornata da bollino rosso, la rete autostrade Alto Adriatico sarà attraverso da migliaia di turisti di ritorno dalle ferie nelle coste croate e di lavoratori originari dell'est Europa che faranno rientro nel nord Italia. Porta d'ingresso, nella maggior parte dei casi, sarà la barriera di Trieste-Lisert. È lì che potrebbero verificarsi sabato 19, giornata da bollino nero, le maggiori criticità. È sulla base dei dati storici, a cui va aggiunto il maggiore afflusso di transiti durante l'esodo, sabato scorso più 5%, domenica più 8% rispetto al 2022, che si ipotizza per questo sabato il transito di circa 28.000 veicoli in ingresso all'Isert. Complessivamente saranno tra i 185.000 e 194.000 i mezzi che transiteranno lungo l'intera rete di autostrade Alto Adriatico. Il traffico si svilupperà lungo la carreggiata ovest e quindi lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia, con code e ralentamenti che potrebbero crearsi anche in prossimità degli svincoli verso le località balneari, per gli ultimi accenni di esodo e per effetto del turismo pendolare, e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia. Domenica 20 sarà aggiornata da bollino rosso, con quasi 180.000 transiti previsti. Ancora una volta il Lisert sarà osservato speciale, con altri 27.000 transiti previsti e probabili formazioni di code in ingresso alla barriera. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Autostrade Alto Adriatico rinnova l'appello a osservare i limiti di velocità, a mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che precedono e a non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma al rientro andremo a parlare del Crodi Aviano con delle tecniche di tomografia che permettono delicate operazioni, ma anche del di sport con la partita amichevole della Triestina contro il Sistiana e del raduno della pallanuoto Trieste che ha cominciato oggi gli allenamenti in mare all'Ausonia. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo il telegiornale. La completa remissione di un raro caso di tumore al cuore è stata ottenuta al Crodi Aviano grazie a un sofisticato trattamento in tomoterapia. Soddisfazione da parte dell'assessore regionale Riccardo Riccardi. Sentiamo. Un sofisticato trattamento in tomoterapia al centro di riferimento oncologico di Aviano ha consentito una completa remissione da un sarcoma cardiaco su un giovane paziente affetto da un raro tipo di tumore al cuore. Questo risultato è frutto di un importante lavoro di equip al quale hanno contribuito l'esperienza del team medico sui sarcomi e sulla fase di individuazione del target, dei fisici nella pianificazione della cura, dei tecnici durante la somministrazione del personale infermieristico nella fase assistenziale e il commento dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Il Crodi si conferma ancora una volta una realtà di ricerca e di cura di eccellenza, punto di riferimento nella nostra regione al di fuori dei suoi confini. Fondamentale lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni e l'introduzione della tomoterapia, una tipologia di radioterapia che consente di intervenire con ancora migliore efficacia grazie ad una maggiore precisione nell'aggressione del tumore con la possibilità di trattarlo in poche sedute e con dosi più attive, ha aggiunto Riccardi. Per trattare le neoplasie rare è necessario essere sempre all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico, ha concluso l'assessore. In quest'ottica vanno ricordati gli importanti investimenti che pure con i fondi del PNRR consentiranno a breve al Cro un aggiornamento proprio della tomoterapia e di altre innovazioni che permetteranno di offrire ulteriori importanti possibilità di cura a molti malati oncologici. L'assessore comunale di Muggia Andrea Mariucci ha percorso più di 4.000 km attraverso l'Europa fino a Caponord in bicicletta, un'impresa emozionante e difficile che Mariucci ha raccontato ai nostri microfoni. Il nostro percorso è stato un percorso di 4.350 km, poi io alla fine ne ho fatti 4.680, un po' di più, perché qualsiasi cosa tu debba fare, anche lasciando il percorso, andare a dormire eccetera, lo devi fare sempre in bici, quindi io ho fatto 300 km di logistica in più e ci ho impiegato un po' più di 20 giorni. 20 giorni, 14 ore e 43 minuti per oltre 4.000 km percorsi in bicicletta da Torino a Caponord. L'assessore comunale di Muggia Andrea Mariucci è riuscito a portare a termine l'impresa che racconta ai nostri microfoni. Torino, Gran Sa Bernardo, Svizzera, Lago di Lausanna, Svizzera, Parigi, arrivare a Parigi in bicicletta è stata una cosa meravigliosa, poi da Parigi abbiamo fatto tutta la zona verso il Belgio, l'Olanda, la parte di Maastricht, la Germania, tutta la Germania, Brema, il nord di Hamburgo e ci siamo imbarcati poi tagliando tutta la Danimarca, Friedrichshaven per Oslo e salendo su poi Norvegia, Svezia, Finlandia e Caponord, quindi Norvegia di nuovo, Oceano Artico. Prendendo parte una manifestazione che si chiama North Cape 4000 che prevede un certo percorso e anche dei cancelli ben specifici e obbligatori di percorso. Un'esperienza entusiasmante attraverso paesaggi spettacolari ma anche difficile per i tanti ostacoli incontrati, a cominciare dai problemi ai tendini accusati in partenza e poi la pioggia, la fatica, la tentazione di mollare alla quale ha ceduto ben il 45% dei partecipanti. Ci sono stati molti momenti difficili, è una manifestazione che emette a dura prova l'equilibrio psicofisico dei partecipanti in qualsiasi caso, quindi tu devi pedalare, succeda quel che succeda. Abbiamo preso 10 giorni di pioggia, io ho rotto il cambio, ho avuto un problema di un tendine già il primo giorno, nemmeno ad Aosta io pensavo già di ritirarmi, poi ho subito anche una caduta nella prima settimana in Germania che mi ha rallentato molto, mi ha fatto vedere le stelle, se così si può dire, e poi ho avuto una grossa crisi, si chiama così, da un punto di vista sportivo, tra Norvegia e Svezia in mezzo al bosco, quando a un certo punto io mi sono piantato, la mia mente faceva solo pensieri negativi, non riuscivo più andare né avanti né indietro, quelli sono i momenti che ho superi o non superi, sono contento che il momento di peggiore crisi è coinciso anche con il momento di maggiore motivazione, perché lì poi ho ritrovato la motivazione che mi ha portato fino in fondo. Sport adesso, la Triestina ha vinto 6-0, un'amichevole disputata ieri contro il Sistiana Calcio, la formazione di Tesser contro quella di Godeas per una serata di calcio, che ha fornito importanti indicazioni a entrambi gli allenatori, vediamo. Gravivace, test che lascia soddisfatto Mr. Tesser, con il risultato di 6 reti a 0 contro il Sistiana, la Triestina ha vinto l'amichevole giocata ieri sul campo della formazione allenata da Dennis Godeas. Le reti portano le firme di Celeghin, Adorante, Lescano, Doppieta di Redan e Minesso. Il vantaggio è arrivato dopo 6 minuti su cross di Celeghin, velenoso e il giusto per ingannare il portiere Cantamessa. A stretto giro, da Celeghin parte l'assist per la rete di Adorante, che di testa spiazza l'estremo difensore. Le due categorie di differenza si fanno sentire, tanto che il Sistiana fa fatica ad arrivare in area avversaria dovendosi scontrare contro una Triestina che è apparsa decisamente più solida rispetto alla sfida di Carlino. Nel finale di primo tempo il 3-0 di Lescano manda negli spogliatoi le due formazioni. Nel secondo tempo Tesser concede spazio a molti giocatori, lasciando in campo solo Rizzo ed El Azrak rispetto agli 11 iniziali. In attacco è Redan a prendere il posto di Lescano e lo stesso giocatore segna subito la quarta rete, cogliendo il buon passaggio di Ciofani. I ragazzi in maglia rossa giocano con un buon ritmo, arrivando alla quinta rete ancora con Redan, chiudendo poi i conti con Minesso al 76esimo. Un match che ha fornito preziosa indicazione a entrambi gli allenatori in vista dei rispettivi campionati. Tesser aveva chiesto al gruppo di giocare con maggior sprint rispetto alla gara contro il Charlins ed è stato accontentato. Sabato ci sarà un ulteriore impegno in trasferta, questa volta contro il Brescia con partita porte chiuse. Piccola nota finale, ad arbitrare l'amichevole di ieri fra Sistiana e Triestina c'era Matteo Vendrame della sezione di Trieste, un ragazzo di 26 anni considerato uno fra i prospetti di maggior interesse in regione. Con l'auspicio di una stagione indimenticabile da parte dell'allenatore Daniele Bettini, oggi il gruppo squadra della Palla Nuoto Trieste si è radunato al gran completo allo stabilimento balneare Osonia per l'inizio della preparazione. Vediamo. Coach, se dovesse scegliere un titolo da dare a questa stagione ancora prima di cominciarla, in termini di obiettivi, in termini di auspici, in termini di sensazioni, cosa mi dice? Indimenticabile. Perché indimenticabile? La voglio indimenticabile, la voglio che ci togliamo soddisfazioni, che sia qualcosa che rimane nella storia. Coach Bettini vuole una stagione indimenticabile per crescita, per obiettivi, per prospettiva. Oggi il consueto raduno agostano, lo stabilimento balneare Osonia e il gruppo squadra della Palla Nuoto Trieste, il targato Samereco, a Shipping si è radunato al completo per l'avvio della stagione. Diversi volti nuovi a rafforzare il gruppo, il portiere Enrico Caruso, l'attaccante Marin Dasic e il centro boa Luca Marziali, arrivati da altre squadre, più i giovani aggregati alla prima squadra Alessandro Fumo e Mitia Treu. Siamo come di consuetudine al Bagna Osonia che ci ospita, come in tutti questi anni, per la nostra foto di rito, che ci porta sempre bene, quindi un grande ringraziamento al Bagna Osonia. Diciamo che abbiamo formato questa squadra insieme al coach Bettini quest'estate, molto competitiva, abbiamo tre inesti buonissimi direi di alto livello. A questi atleti di altissimo livello chiaramente la società, dato che lavora molto bene da anni col settore giovanile, ha affiancato altri due volti nuovi che sono Alessandro Fumo e Mitia Treu che provengono dal bivaglio di Trieste. Uno, due, tre, Trieste! A guidare la squadra Capitan Petronio che ha la domanda diretta sugli obiettivi stagionali risponde così. Qualche anno fa, proprio in questa sede e all'inizio della preparazione ti chiesi che tipo di obiettivo si poteva dare a questa squadra e tu mi avevi risposto quest'anno Coppa. Se dovessi farti la domanda adesso, cosa mi rispondi? Uguale, Coppa avanti. Il mio sogno è alzare qualcosa prima di smettere, ormai non manca tanto tempo. La Coppa è il mio sogno, però indubbiamente bisogna pensare anche al campionato anche perché quest'anno il Brescia, che era la seconda forza del campionato, ha cambiato molto, quindi è un po' una squadra da scoprire. Ci sarà un gruppetto di tre, quattro squadre che lotteranno addirittura per il secondo posto. Credo che una semifinale di tutte le competizioni può essere un obiettivo che possiamo pensare di raggiungere. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, vi ricordo l'appuntamento domani mattina con Sveglia Trieste a partire dalle 7. Gli ospiti in studio saranno alle 8 il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Stefano Bernobici, alle 9 Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, conduce il vice direttore Ferdinando Avarino. Per chi ci segue in diretta tra non molto saremo in compagnia del giornalista del piccolo Giampaolo Sarti per commentare le recenti notizie di cronaca, gli episodi che maggiormente hanno interessato la città. Ci vediamo dunque tra poco con l'approfondimento. Ben ritrovati con l'approfondimento di Telequattro in attesa del collega giornalista Giampaolo Sarti, giornalista del piccolo che sarà con noi tra qualche istante. Andiamo a fare il punto intanto sulle ultime notizie dall'Italia e dal mondo attraverso le pagine web delle principali testate online. Il Corriere della Sera, Lukashenko, la guerra si poteva evitare, ora si può fermare, Sarkozy fa discutere, Putin ha sbagliato, ma serve una soluzione. Questo in evidenza con la pagina web del Corriere della Sera al pari della Repubblica che scrive diretta a Lukashenko, la guerra si poteva evitare, ora si può fermare. Kiev, inverno senza F-16 per difenderci. Ancora dal Corriere, Meloni con Rama, la foto della visita in Albania, grazie a Giorgio è stato un onore. Io erede di Giulio Cesare, il libro shock del generale Vannacci contro gay e migranti. Interviene Crosetto, la notizia che ha scosso in questo momento a livello chiaramente diplomatico e politico, un libro autopubblicato, il mondo al contrario, il generale di divisione insulta minoranze, ambientalisti, omosessuali, l'esercito italiano prende le distanze e lui dice frasi estrapolate dal contesto del libro. Donna uccisa, il corpo nel bagagliaio di un'auto in provincia di Napoli, accoltellata alla schiena, fermato l'ex, lei lo denunciò. Un ennesimo caso di omicidio o femminicidio, per che dir si voglia, in questo caso la vittima è Anna Scala, 56 anni, l'uomo trovato nascosto a piano di Sorrento. Ancora le notizie dal Corriere con le accise su benzina e diesel, quando saranno tagliate, quante sono e quante pesano a cura di Diana Cavalcoli. Poi la notizia con la quale abbiamo anche noi aperto l'edizione del telegiornale delle 19.30 a Udine, due finanzieri di 28 e 30 anni morti in cordata. La procura apre un'inchiesta, Giulio Alberto Picchione e Lorenzo Paroni. Le vittime erano impegnati in attività ufficiali di addestramento. La notizia del decesso è arrivata alle 2.15 di giovedì mattina. La loro preparazione era di altissimo livello. L'indagine infatti è stata aperta proprio per appurare esattamente la dinamica dell'accaduto. Il duello mancato, Elon Musk e Zuckerberg, il duello che non si farà, l'uomo più ricco del mondo, ha perso il contatto con la realtà. La risposta di Musk al ministro San Giuliano è la fine della storia farsa dell'estate. Con la Repubblica invece il blindato ucraino viene distrutto ma i soldati continuano a combattere. Ancora frasi prese dal libro del generale Vannacci, omosessuali, non siete normali, le sparate del generale e dell'esercito contro gay, femministe e gonu e migranti con linguaggio triviale e sessista. Ancora accadono in cordata, abbiamo visto morti i due finanzieri durante l'addestramento. Neonato abbandonato, la madre lo ha rivisto e allattato ma vorrebbe cambiare il nome scelto da medici e infermieri. La Russia verso il divieto d'aborto, le donne devono fare figli non carriera. Queste le notizie della Repubblica, le ferie in barca di Giorgio Meloni nella vacanza albanese, giallo su una cena con Blair e poi caccia nei boschi al ragazzo che ha ucciso il padre e l'amico, il sindaco, fate attenzione, è un uomo pericoloso. Andiamo a vedere anche le notizie della Gazzetta dello sport, da Reinders a Ciuquze, Milan il borsino dei nuovi arrivi con il calcio mercato, poi Okaforo Giroud, i piani di Pioli per il centravanti a due teste, lo Svizzero non è un nove di ruolo anche se sa giocare da centravanti. Poi c'è il fantacampionato per i fantallenatori, le probabili formazioni con l'Inter più Mkhitaryan che frattesi, il Napoli invece con Elmas e poi c'è tutta la cherel che gira attorno al futuro CT della nazionale, l'arte di Mancini lasciare le squadre con le tasche piene, poi Spalletti Italia si corriserva, non vuole mettersi contro il Napoli e Conte sta alla finestra per vedere l'evoluzione della scelta della federazione italiana gioco calcio. Ci ha raggiunto in studio Gianpaolo Sarti, giornalista del piccolo, ben trovato. Buonasera a tutti, vedo che ti diletti anche di sport. Beh, qualcosina, dai, ci si arrangia anche con un po' di sport. Noi invece parliamo di cronaca cittadina, siamo passati dal silos dell'altra volta, ora ci spostiamo di qualche chilometro, pochi, perché andiamo al Peducin, per quella che è stata un po' la polemica del fine settimana scorso, quella delle donne musulmane che hanno fatto il bagno con l'abito e ciò che si è verificato proprio lo stabilimento Lanterna. Gianpaolo. Guarda, è veramente interessante il meccanismo di associazione che fai perché in qualche modo, almeno dal punto di vista del ragionamento, potrebbero essere collegati. O meglio, ci si scandalizza di più per delle persone, delle donne che seguendo i costumi, le tradizioni, la cultura, la religione, e la fede del proprio paese di provenienza, fanno il bagno vestite. E ci si indegna decisamente meno per il disastro umano, umano, che c'è al silos. Io vorrei vedere la stessa protervi, la stessa rabbia, e poi parleremo del discorso Peducin, no? Ok? Vorrei vedere i cartelli fuori, la gente, le manifestazioni, l'indignazione. Vorrei vedere la gente in piazza per quello che abbiamo a Trieste. A proposito di igiene, perché se i motivi adotti per quanto riguarda il Peducin, non sono tanto il discorso religioso, e su questo tra un attimo enteremo, ma l'igiene, parentesi, e tutte le persone che si ungono di creme, vanno in acqua, insomma, voglio vedere chi sporca di più, ma questo è un altro discorso. Ci si indigna di più dell'igiene di persone, donne, che con i bambini, e vai a urlare contro i bambini anche, che non capiscono la situazione, che sono lì con le mamme, che per l'igiene disumana, grave, schifosa del silos. È un disastro quello che è il silos. Ci sono persone che vivono con i topi, io sono stato alcune settimane fa, di sera, ma non è per modo di dire, mi sono venuti i topi sulle scarpe. Pensate che c'è gente che dorme così, e non nelle periferie dimenticate, nel cuore della città, la città turistica. Questo abbiamo. E ci si indigna per l'igiene delle donne musulmane che vanno in acqua vestite. Però attenzione, voglio proporre uno spunto che non è farina del mio sacco, ma della mia collega Laura Tonero, con cui oggi parlavo di questo, e mi dice, ma secondo me, e siccome lei ha ragione, non è tanto un problema di religione, di mancanza di accettazione, qualcosa che ha a che fare con l'integrazione, ma è un problema tutt'al più triestino, di una certa vecchia generazione, ma in qualche modo anche comprensibile. In che senso triestino? Persone anche di una certa Italia, le abituè del pedocine, e che legittimamente non sono ancora capaci, non hanno la cultura, la sensibilità, per una questione anche di età, anagrafica, di abitudini con cui sono cresciute da sempre, di vedere persone di un'altra cultura, di un'altra religione, che fanno il bagno in un altro modo. E questo può destare scalpore. Non è un problema, forse. Credo, perché poi vai a vedere anche veramente l'età delle persone che si sono in qualche modo arrabbiate per questo. Poi, per carità, una protesta tutt'al più contenuta, non c'è stata la rivolta al pedocine, no? Ok? Quindi, e più forse è un problema di abitudini, sai, persone che a una certa età forse anche fanno fatica, ma non per questioni di cattiveria, perché non sono abituate. E cambiare la mentalità, far capire che le cose stanno cambiando, è un po' più difficile con le persone di una certa età. Lo capiscono molto bene a volte in famiglia, questo, no? Quindi, io credo che il problema si annidi tutt'al più in questi termini qua. Quindi, di abitudine, consuetudine, più che di religione, come accettazione dell'idea. Poi però, poi però vai a leggere anche i commenti sui social e lì di potermine, lì c'è veramente a volte la cloaca a proposito di igiene intellettuale. Il vero sì, lo sai su Facebook, in verità. Ecco, hai ragione. No, scusami, ma diciamolo, bisogna avere anche un po' di educazione, nei termini in cui, anche perché a volte noi, soprattutto d'estate, siamo un po' ridotto dell'osso quello organico e facciamo fatica anche a moderare i commenti. Talvolta, ecco, lo spieghiamo perché togliamo i commenti, perché sono offensivi, perché le persone non hanno discernimento mentale, non è che lì è lo sfogatoio. I social potrebbero essere veramente un luogo di, non di scontro, ma di ragionamento, di incontro, di confronto. Invece noi leggiamo a volte di tutto e di più, tanto più sulle persone immigrate. Voglio terminare questo ragionamento dicendo che le posizioni di chi fa fatica ad accettare questo vanno ascoltate, vanno comunque rispettate, vanno ascoltate, vanno capite. E su questo non sono neanche parole mie, ma sono parole del nuovo vescovo. Il nuovo vescovo che dice, quando si fa difficoltà all'accoglienza, all'accettazione, all'integrazione, sono rilievi che vanno presi in considerazione. Le opinioni di tutti, se poste in modo civile, vanno assolutamente considerate. Le persone che hanno difficoltà ad accettare le condizioni dell'integrazione, vanno capite, vanno ascoltate. Dopodiché, se integrazione significa quello che vediamo nel silos, allora posso capire che la gente si arrabbi. C'è un tema comunque anche relativo a una sorta di cattiveria nei confronti delle situazioni che si sono create con i richiedenti asilo, cioè la vista di persone in piazza libertà, la vista di persone che prendono l'autobus e vanno alla messa. e al pari la, non posso dire svista perché è un termine sbagliato, ma l'occultamento di queste persone poi al silos, vengono percepite in modo diverso. Cioè, noi diciamo, guardate che gli stessi che sono sulla 10 poi vanno al silos, però se sono sulla 10 dà fastidio, se sono al silos sono dimenticati. Occhio non vede? Occhio non vede? Vuole non vuole. Ecco, perché, come dire, è solito qualcosa che si nascondono sotto il tappeto, no? Il silos è un po' il tappeto della città, perché lì sotto il tappeto non ci si accorge cosa succede. Ma voi sapete cosa succede al silos? Ma ci rendiamo veramente conto? In quanti sono al silos? Eh, parliamo di centinaia di persone. Centinaia? Centinaia di persone. A momenti, no? A volte decine, a volte centinaia. In questo momento della rotta balcanica i flussi sono importanti, sono veri e propri villaggi. Villaggi in cui ci sono persone che non trovano accoglienza, oppure perché i posti sono pieni e non funziona brillantemente il sistema di trasferimento in altri luoghi di accoglienza della regione del paese. Ecco perché il silos si riempie. Ma ci sono anche persone che non vogliono entrare nel sistema dell'accoglienza perché sono soltanto di passaggio. Oppure ci sono situazioni anche più borderline, persone anche che hanno a che fare con la microcriminalità, che hanno a che fare con organizzioni di spaccio. Ci sono anche chi, ci sono delle gestioni proprio quasi a livello di mafia interna, no? Di racket, il termine giusto è questo. Cioè tu per andare a dormire lì nello schifo, nella sporcizia, ok? Devi avere i contatti, devi pagare. Ci sono dei passers. C'è stato questo articolo da parte dei colleghi del Quotiniano del Giornale che sono venuti qui a documentare quanto accade il silos. A parte che la giornalista racconta di essere stata minacciata con un coltello e un'ascia. E questo andrà appurato. E capire i termini un po' di questo tipo di situazione è anche violenta evidentemente. E poi c'è un problema di criminalità. Perché se è vero che ci sono dei passers che addirittura gestiscono, o c'è questo racket che gestisce, tra l'altro in un luogo privato, no? Che è proprietà delle coppe, voglio dire, no? Per cui si attende peraltro anche l'intervento da parte della procura per uno sgombero. Uno sgombero che non potrà essere mandare le persone in strada perché se no siamo appunto a capo, dovrà essere organizzato con un sistema di trasferimento di accoglienza. Ma c'è anche un problema di spaccio, di droga, c'è prostituzione. Mi chiedo se addirittura la droga non sia nascosta in quei meandri, ok? Però la tua domanda era interessante perché poi ci si indigna a volte per le persone sugli autobus, la visione delle persone che sono in Piazza Libertà. E' questo che noi non riusciamo a gestire. Ma non vorremmo mai diventare come certe città. Pensate le stazioni ferroviarie di Milano, di Roma, di Napoli, di Torino, di altre, di Firenze. Cioè, sono situazioni invivibili. Noi non dobbiamo arrivare, dobbiamo indignarci molto prima, ok? Io ora non voglio fare né il buonista né il diabolico, però non tutti si comportano o si fanno, diciamo, apprezzare per quella che deve essere chiamata un'accoglienza e un'integrazione a Trieste. Cioè, c'è chi viene qui e, come dicevi tu, non trova un posto, non ha un aiuto, non ha un supporto ed è costretto a vivere come può, vedi il silos. C'è chi invece viene qui, va a confarsi la spesa, va a prendere l'autobus. Se noi andassimo a guardare, certo, se noi andassimo a guardare i numeri, le statistiche, di quanti compi i reati, vuol dire che questo è risibile. Ma il fatto è che ciò che colpisce non sono i numeri e le statistiche, ma quelle 1 su 1000 o quant'altro, non lo so, non le conosco le proporzioni, che danno veramente problemi. Ok, quindi è una questione di percentuali. E di percezione. E questo, le percentuali ci dice che non è un problema. Ma dal punto di vista della percezione è come un problema. Perché il fatto è che, cioè, le percezioni delle persone non possono essere trascurate, vanno capite, vanno considerate, vanno analizzate, bisogna dare una risposta a questo. Quando tu hai delle persone che vivono in strada, e questo crea dei gruppi, come dire, che fanno clan a sé, che sono lì, crea il fattore che rientra nel campo semantico dello sconosciuto. E lo sconosciuto ha a che fare talvolta con la paura, lo stare lontani. E questa cos'è? Integrazione? Ecco che il lavoro che fanno anche le persone e le associazioni umanitarie è un lavoro utile. Il rilievo qual è? La critica è. Ma proprio perché andate lì a fare accoglienza, è quello di diventare un ricettacolo. E il cane che si morde la coda. Si concatena tutto. In termini, quantomeno, di ragionamento. Qual è la via d'uscita? Ok. Innanzitutto, non creare situazioni in ghetto. Situazioni in ghetto che si hanno a che fare, attenzione, non solo esclusivamente con i migranti, ma anche con le persone che vivono, che hanno problemi di carattere, di disagio psichico e di dipendenze. Vediamo quello che succede lì nel viale, alla fine, via Bonomo, dove c'è l'inizio del centro commerciale dell'ingresso laterale. È un disastro. Perché quando basta 4, 5, 6, 7, una decina di persone che si mettono lì, che bevono e spaccano bottiglie, e spesso innescono a risse, le persone hanno paura. Certo. Paura. Va a te, vai tu a spiegare, ma guarda che sono persone che hanno disagio, il cui disagio, la cui sofferenza, la cui sconfitta umana porta a essere così. Ma te che te ne frega che sei lì che vuoi abitare a casa tua e star tranquillo. Ok? Anche la tua tranquillità è importante. Chiaro. Quindi le due campane vanno sempre considerate. Un'ultima domanda sul silos e poi 5 minuti per parlare di altro. Quanti secondo te, se lo sai, o se te lo puoi immaginare, percentualmente scelgono di andare al silos? Al netto della possibilità di avere un tetto altrove, scelgono di andare proprio perché rientrano sotto, diciamo, il cappello della microcriminalità o perché hanno una scelta diversa? Io non ti so dire il numero preciso, ma a percezione, anche perché al silos ci sono andato varie volte, io ho dormito una volta lì alcuni anni fa per fare un reportage. Sì, ricordo. Sono stato con questi ragazzi, ho capito, e vi assicuro che erano dei ragazzi dei tesori di persone. La mia esperienza, avessi visto con i miei occhi spaccio, che in realtà l'avrei scritto anche molto contento, perché chiaramente queste sono le questioni che interessano di più. Invece ho visto tanto umanità. Sono stato io, ho fatto finta di essere un kosovano, perché fare l'afghano tra gli afghani non è il caso. No, certo. Ok? E lasciandomi che c'è la barba, abbronzandomi molto, ho cercato di iniziare con loro, e loro mi hanno accolto. È stata un'esperienza anche professionale molto bella, anche umana molto bella. Lì non ho visto all'epoca questa fetta di persone che non vuole. Questi erano persone, ragazzi, che non avevano posto in accoglienza. Io penso che però la percentuale sia importante, perché sono veramente persone di passaggio. O sono persone che arrivano e non sanno dove andare, però sanno che possono andare al Silos. Allora vuol dire che c'è veramente una catena, ok, di comunicazione per cui lì ti porta. Quindi c'è qualcuno che questo lo gestisce. Lo gestisce. Abbiamo pochi minuti. Oggi abbiamo raccontato dei furti nei chioschi del lungomare acquario di Muggia. Un'altra dinamica fastidiosa, quella dei furti negli stabilimenti, i furti in generale sono fastidiosi. Pensavamo che forse solo il ferroviario fosse oggetto di furti continui. Siamo arrivati al nono, mi pare, povero bagno ferroviario. Anche a Muggia si verifica questo. Spaccata, rubati i soldi e anche le bibite. Sì, delle bottiglie di alcol. L'avremmo fatto festa. Di sboccia. Allora, innanzitutto una premessa. Abbiamo due minuti? Di più. Ok. Anche quattro. Una premessa. Quello stabilimento balneare, quella spiaggia, è veramente una realizzazione, una costruzione brillante di cui la città, il comune di Trieste, il comune di Muggia, la città devono andare fieri, perché dopo decenni di abbandono, se vi ricordate cos'era quella zona lì, Ixunt Leones, non si sapeva cosa fosse, l'inquinamento, l'abbandono e quant'altro. Quella riqualificazione è veramente bella, è stupenda. E da due anni, se non sbaglio, abbiamo questa nuova spiaggia, finora non era successo ancora niente, ma neanche atti vandalici, se non qualche piccolezza. E ora dobbiamo fronteggiare questo problema qui. Non vorrei che questi fossero gli stessi del bagno ferroviario o addirittura gli stessi dei chioschi di Barcola, che sono stati oggetto di raid notturni, furti e anche danneggiamenti. Lì va posto un interrogativo, ed è questo, la vigilanza, le società che operano in quella zona, che fanno vigilanza, che sono pagate per questo, com'è possibile che la scorsa notte, l'altra notte, non si siano accorti di nulla? Perché attenzione, i furti non li hanno fatti in un unico bar, che tu dici in un unico chiosco, non si è accorto perché passano. In tre, in tre, a 700 metri di distanza, l'uno dall'altro. E giustamente il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, pone l'interrogativo. Com'è possibile che la società di vigilanza, che da quanto risulta quest'anno è cambiata, non si sia accorta di nulla? Risulteranno fondamentali le immagini delle telecamere a questo proposito. E vi assicuro che le forze dell'ordine sapranno rintracciare i responsabili. Dobbiamo chiudere qui. Ringrazio nuovamente Gianpaolo Sarti per essere stato con noi, come ogni giovedì, per l'approfondimento che segue il telegiornale. Grazie Gianpaolo. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata a te, buona serata a tutti gli spettatori. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.